quindi sono partito bello forte non sbagliamo qua era il warm up ora mi arrabbio ora mi arrabbia track mania turbo ragazzi eccolo qui benvenuti a tutti ben tornati sul canale sul canale con le store player track mania ricevamo ragazzi lo vogliamo provare un gioco molto immersivo un gioco coinvolgente vediamo se ci piace lo vogliamo provare oggi tutti insieme abbiamo subito la partita track mania è uscito il 15 maggio di questo mese è normale 15 maggio di questo è da provare assolutamente ci ho fatto qualche qualche partitella giusto per per capire come funziona un gioco da fare con gli amici un gioco online anche molto immersivo online ci sono delle sfide settimanali mensili c'è la campagna che andiamo subito a vedere facciamo gioca in solo c'è subito la campagna questo gioco è free to play e gratis quindi possiamo fare tante tante sfide andiamo subito a provare in solo la campagna e poi facciamo anche una gara online avevo fatto già un paio di gare qui adesso proviamo la terza sfida let's go eccola qua la nostra macchinina con lo stemma italia si parte puntiamo a loro ragazzi vabbè anche se ci vuole un po di di esperienza comunque qualche euro già io l'avevo fatto proviamo questo nuovo tracciato questo non l'ho mai fatto prima volta prima volta let's go attenzione dove diavolo si va da qua attenzione attenzione non male come primo però fare loro non è facile cos'è qua cacchio sott'acqua no seguiamo a stoppire attenzione ho vinto una nuova skin in prestigio non siamo lontani e non siamo lontani da loro 32 e 8 ho soltanto 8 decimi quindi io la riprovo un'altra volta attenzione forse siamo partiti meglio stavolta siamo partiti una merda invece le curve devono essere più decisi nelle curve che conviene sempre tagliarle qua a chi ho alzare l'acceleratore quando si può attenzione andiamo forse siamo davanti non dobbiamo sbagliare oh 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 ok ok si attenzione ci portiamo loro a casa ci portiamo loro a casa guarda che bel ciuffo che ho stamattina ora ce lo portiamo via proviamo un'altra gara proviamo un'altra gara che è veramente veramente coinvolgente coinvolgente andiamo 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 possiamo fare anche qualche live con questo titolo portiamo sempre a loro logicamente che non ci accontentiamo proviamola mi sa che questa è un po scivolosa le piste scivolose non sono il mio forte dal momento cosa qua se sapessi da dove si va magari ecco infatti eccola la siamo piantati lì riproviamola derapando eh però se derapi troppo si perde molto tempo guardalo che l'abbiamo presa un po meglio stavolta ok dai ci sta la riprovo l'ultima volta la riprovo l'ultima volta sfida sfida sempre oro via 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 non dovrebbe essere tanto complicato l'oro però dai dai non deve appare troppo una volta magari che hai lo hai memorizzato il tracciato guarda qua non ho capito se ho fatto loro oppure no record persona no 17 millesimi non ci credo non ci credo no vabbè questo è da migliorare ragazzi questo è da migliorare 17 millesimi non mi puoi non mi puoi dare l'oro 17 millesimi io ci riprovo ancora una volta 17 millesimi vai 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 si tagliamo un po così attenzione arriva 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 l'oro arriva l'oro let's go arriva se ne facciamo un'altra un'altra giusto per vedere un po qualche mappetta in giro e poi ci facciamo una gara online let's go si parte puntiamo sempre a loro via prima volta anche sul tracciato vediamo com'è no memorizziamolo prima poi magari puntiamo a loro ricordiamoci che ci sono anche i freni in questo gioco che serviranno sicuramente ok ok ho vinto anche un non so cosa primo primo di una lunga collezione di che è di bronzo no hai capito male si punta di nuovo la faccio un'altra volta l'ultima volta non ci accontentiamo di un bronzo questi ne sono partiti molto meglio stavolta ecco qua però eh non si capisce no mi sono imbrogliato mi sono imbrogliato un po' riproviamolo riproviamo questo gioco ci terrà incollati ore e euro secondo me occhio si sei calmo no no sono arrivato troppo forte lì sull'ultima rampa di salto lì e dovremmo arrivare un attimino un po' più lenti vabbè comunque comunque bel gioco mi sta piacendo molto coinvolgente troppo troppo divertente andiamo avanti andiamo avanti usciamo facciamo una gara online allora dovremmo andare in classificata si in classificata qui si dovremmo cercare una partita online si ok ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo molto bello ragazzi allora se il video vi sta piacendo se il gioco vi sta piacendo ricordatevi di lasciare un like e un commento se volete e a fine video iscrivetevi se il canale stormplayer vi piace la luce si vede allora team sono tre contro tre sono delle gare a punti in base a dove ci posizioniamo recuperiamo guadagniamo dei punti con tante manche che poi andiamo a sommare questa l'ho già fatta ragazzi quindi sono partito bello forte non sbagliamo qua era il warm up ora mi arrabbio ora mi arrabbia si parte allora non so qua giocano soltanto francesi in questo gioco un olandese si parte eh giuro che la vinco questa la vinciamo ci dobbiamo impegnare per vincerla sta pista l'ho già fatta quindi sfruttiamo al massimo eh sono arrivato troppo derapando lì infatti mi hanno dato una pista questi facciamo il salto finale però attenzione mi sa che sono secondo secondo ragazzi oh beh bel risultato bel risultato bel risultato ho fatto un bel l'amico l'amico ha anche fatto primo quindi dovremmo essere in prima posizione dovremmo essere in prima posizione noi siamo la squadra rossa a quanto pare eh sì siamo 1-0 da noi mi sa si arriva a 5 il primo che arriva a 5 prima squadra che arriva a 5 vince stessa pista ah è sempre la stessa pista ok ok attenzione qui l'abbiamo presa bene nooo la fuga la fuga la fuga ero davanti a tutti ma sono ultimo peccato peccato per la squadra non fa niente vediamo che si è accappottato qualcuno qua alla fine sono arrivato un po' lento qua veramente è gara di cacca questa speriamo di arrivare almeno alla fine di recuperare i punti nooo 9 pari attenzione questo turno finisce in parità meglio così meglio così meglio così andiamo avanti si parte ragazzi per la terza manche dai 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 prima ero partito bene ho sbagliato si si lo è che l'ho presa bene non male non male madonna mia bellissima bellissima terza posizione buono attenzione i due blu però hanno fatto primo e secondo mi sa che hanno vinto i blu stavolta attenzione hanno vinto i blu bravi i blu bravi i blu attenzione 1 a 1 si preannuncia una sfida molto combattuta non se la prendiamo bene questa no mi sono girato un po' ma niente eh sono sempre i due francesi davanti attenzione 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 la prendiamo meglio stavolta sbaglia sbaglia ti prego secondo buono sì attenzione attenzione questa la portiamo a casa la portiamo a casa perché terza e quarta hanno fatto i miei due compagni di squadra let's go questo gioco veramente ti prende ragazzi ti prende molto molto coinvolgent sezione quinta manche quinta manche quinta manche quinta manche non sbagliamo sì attenzione non andiamo male c'è un amico davanti prendiamo bene questo sto salto attenzione preso benissimo anche stavolta speriamo che sbaglia il francese non sbaglia non sbaglia non sbaglia però mi ha sorpassato un amico non fa niente non fa niente mi ha fatto stesso tempo ci credo stesso tempo e la vinciamo ragazzi 3 a 1 3 a 1 sesta manche questa manche dai che la portiamo dai 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 non male l'importante è non sbagliare succedere di tutto l'ultimo salto qui se lo prendiamo bene bello peso bene peso bene sì prime secondi questa volta dai sì nuovo tempo record pure non so come dovremmo aver vinto anche questa manche un 19 la vinciamo siamo 4 a 1 ci manca solo una manche e l'abbiamo vinta ragazzi eccola qua arriva 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 eh questa volta sono i due della squadra blu davanti sbaglia uno sbaglia uno buono buono che sbaglia buono che sbaglia attenzione due per poco no porca truta fatto quarto ma no un abbandonato uno della nostra non ci credo ragazzi cosa sta succedendo non ci credo come possiamo vincere in due perché abbandonato perché uno abbandonato come facciamo a vincere non ci credo almeno uno non si può vincere mi sa eh dovremmo impegnare almeno a fare prima e secondo si? siamo davanti? sai non sbagliare e che come è arrivato questo? dai che sbaglia dai che sbaglia però si che sbaglia? si! prima e secondo dovremmo aver vinto però si che l'abbiamo vinta si che l'abbiamo vinta ragazzi anche in due siamo riusciti a portarla a casa let's go seconda in seconda posizione con 31 punti guadagnati 33 punti il nostro amico bello bello si va avanti con le ranked anche ragazzi si va avanti perché queste sono partite classificate bellissimo bellissimo molto molto coinvolgente veramente veramente e niente ragazzi allora questo è Trackmania un gioco gratis per la per lo più poi ci sono altri pacchetti magari per fare altri tipi di modalità però per lo più è tutto gratis si può giocare online si può giocare con gli amici si può fare la campagna quindi a me è piaciuto molto ragazzi fatemi sapere se anche a voi è piaciuto questo bel gioco che dovrebbe essere non fatemi dire cavolate alla sua seconda edizione e niente fatemi sapere fatemi sapere fatemi sapere se vi è piaciuto ragazzi iscrivetevi al canale se volete se vi piace il canale Stormplayer fatemi sapere se volete che continuo questo gioco qui su youtube magari con la campagna e anche con le partite online noi ci vediamo a un prossimo video let's go ciao